Buonasera ai nostri telespettatori, vi ritrovate all'appuntamento con Il Fatto. Anche oggi ci occupiamo di politica, sempre nell'ottica di una informazione preliminare a quella che sarà la competizione elettorale della prossima primavera, vale a dire le regionali in Abruzzo. Stiamo incontrando in questa prima fase di nostre trasmissioni i rappresentanti delle liste dei vari soggetti politici che competeranno appunto per la corsa a Palazzo dell'emiciclo. Saluto e ringrazio Daniele Liccheri, buonasera, che è il rappresentante di Alleanza Verdi Sinistra, che è uno dei soggetti politici che sosterrà la candidatura del candidato presidente Luciano D'Amico. Sicuramente ormai si è definito anche il contesto della coalizione. Qualcuno ha detto, Liccheri, iniziamo proprio da questa connotazione politica, bisogna inseguire Marsilio che comunque ha cinque anni di vantaggio, però c'è da dire che lo stesso Marsilio ha riconosciuto il fatto che vi siate compattati anche con un anticipo consistente rispetto a quelli che sono generalmente i tempi di avvio della campagna elettorale. Insomma, intanto un giudizio politico su questa prima fase di Costituzione dell'Alleanza e dei suoi tempi. Allora, noi siamo molto soddisfatti. Abbiamo chiesto spesso di accelerare un po' appunto perché volevamo fare tutti quanti i compiti a casa fatti bene. Quest'estate ci siamo adoperati per lavorare su un profilo che fosse il più possibile largo, appunto che permettesse la costruzione del campo che poi si è costruito, quindi che riuscisse a tenere dentro dal Partito Democratico, al momento 5 Stelle, a noi appunto a tante forze che hanno secondo me delle diversità ma che insieme possono essere una grande risorsa. Io credo che la candidatura Luciano D'Amico sia il frutto di questa non mediazione al ribasso, ma al contrario la scelta di un profilo civico, appunto di altissimo profilo che potesse, oltre che tenerci dentro, alzare la qualità della proposta politica. Io credo che Luciano potrebbe essere, diciamo, la nostra punta di diamante perché io credo che la coalizione ha molto da dare, ma D'Amico penso sia davvero, e lo sta già dimostrando nelle prime uscite che sta facendo, di poter dare tanto agli abruzzesi in particolare, non alle forze politiche, perché gli abruzzesi arrivano da cinque anni di svantaggi in Marsilio per fare una battuta. Ecco, si parla di campo largo quando si parla di questa coalizione che parte dall'asse Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, però insomma questa coalizione ha avuto anche il beneplacito di Tagliaviva, di Azione, quindi un campo larghissimo, quasi un laboratorio abruzzo? Sì, è un esperimento, è sicuramente un caso molto particolare perché è la prima volta in Italia che siamo veramente tutti dentro, io lo trovo un fatto molto positivo, non so se può diventare un vero e proprio laboratorio, sicuramente ci permetterà di sperimentarci un po' tutti, io credo che il fatto che il giudizio sia così largo e positivo su D'Amico è perché abbiamo fatto una scelta molto positiva, non vedi sugli altri nomi che sono usciti, massimo rispetto, però secondo me D'Amico l'ha dimostrato anche col fatto che appunto anche il partito di Calenda alla fine è entrato, ha allargato il campo e io credo non sia un campo anarchico, il contrario, perché mi sembra che il candidato Presidente sia già da subito definendo insieme a noi quale saranno le regole del gioco, del come si sta insieme e mi sembra che anche lì rispetto a, l'avrete sentito anche voi, nei giornali, la questione etica che ha posto D'Amico, che è anche una nostra questione politica come forza alleanza verde-sinistra decisiva, appunto ridare una dignità alla politica significa rimettere la questione etica al centro e quindi tutte le liste devono avere delle persone per bene, delle persone che abbiano un profilo alto, persone che vengono magari da professionalità, che hanno competenze e che al di là del, senza essere manettari, ma che comunque dal punto di vista diciamo non siano intoccabili e indefeste, questo possono sembrare termini antichi, però io credo che gli abruzzesi hanno bisogno, dopo tanti anni anche di brutte storie che ci ha dato anche la politica, di ridare lustro con delle candidature che siano secondo me studiate e costituite in un certo modo e soprattutto c'è necessità di fare un grande ricambio generazionale, in questo almeno anche noi vorremmo però dare un contributo e credo che dentro il ragionamento anche del candidato Presidente, quindi una nuova generazione per l'Abruzzo che ridia slancio e vigore e che possa rimpiazzare quella che io definisco una classe dirigente a ribasso e quella che attualmente sta amministrando la nostra regione. Per la sintonia con le vostre tematiche, che cosa vi ha convinto di più di Luciano D'Amico come curriculum ma soprattutto come uomo? Ma guardi, in entrambi i casi secondo me il profilo di D'Amico ci permette di piena cittadinanza su tutte quelle che sono poi le nostre questioni storiche, sia nostre che dei verdi, quindi la transizione ecologica, un'economia che torni a parlare al Paese reale, che rimette al centro i diritti dei lavoratori, io credo che tutte quelle che sono le nostre questioni con il candidato Presidente avranno piena cittadinanza e piena legittimazione, quindi noi siamo stati tra le forze politiche che a quel tavolo hanno spinto su questa candidatura, quindi noi siamo oltre che convinti molto contenti del fatto che è un po' come se avessimo portato a casa anche un risultato su cui abbiamo lavorato noi personalmente. Nel merito dei programmi entrerete proprio a partire da questo fine settimana perché l'altra particolarità è quella della costituzione di una coalizione ma ancora della costruzione del programma nelle sue linee fondamentali attraverso un percorso che voi avete definito come un percorso partecipato, che cosa significa tutto ciò? Significa che oltre a un discorso largo rispetto a quelle che sono le forze politiche classiche e cercheremo di lavorare con tutte quelle che sono le forze migliori della società abruzzese, quindi i sindacati, le associazioni. Sarà un percorso completamente aperto e crediamo che anche sul metodo che è sostanza stiamo già dando un piccolo segnale secondo me di cambiamento che è quello che aspettano gli abruzzesi. Il programma appunto di partire con l'argo anticipo ci permette oggi di fare un lavoro importante per ridare poi in campagna elettorale quelle energie che servono. Io credo che ci sono tutte le migliori competenze in questa regione, semplicemente spesso non sono state coinvolte correttamente o non sono state ascoltate. Mi attende comunque una campagna elettorale dura e impegnativa in cui il centrodestra per la prima volta cercherà nella storia di questa regione di riconfermare un governatore uscente, lo farà attraverso anche la cosiddetta filiera, vale a dire la discesa in campo in Abruzzo, di uomini del governo centrale che sembra ancora vivere sull'onda del colpo di fulmine che prosegue da parte degli elettori della luna di miele. Sì, io spero e auspico che questa luna di miele saremo in grado con le nostre proposte e con il nostro lavoro di interromperla perché io credo che l'Abruzzo questa filiera la stia vivendo molto male da moltissimi punti di vista, noi abbiamo visto in tutto il periodo del Covid, ma anche adesso il PNRR e la gestione di questa giunta, ma adesso avendo anche un governo nazionale che fa da cappello, secondo me i problemi si stanno ingigantendo e io spero che riusciremo a mettere le mani in queste contraddizioni e far capire agli abruzzesi che ci può essere un'alternativa diversa. Lo spero a partire dalle regionali, sperando dopo che ci sia una volata vincente anche verso le amministrative perché ricordiamoci che si andrà a votare anche a Pescara, a Montesilvano, a Giulianova, in comuni davvero importanti e in molti di questi appunto governa il centrodestra, quindi sarebbe importante interrompere e invertire una tendenza che purtroppo in questo momento ci vede non noi a casa e loro a governare, io vedo gli abruzzesi a casa e qualcuno che sta facendo più i propri interessi che gli interessi dei nostri corregionali. In questi giorni naturalmente siete al lavoro per mettere in campo i migliori candidati possibili, i rappresentativi del vostro soggetto politico, qual è il profilo dei candidati di Verdi Sinistra in questa regione anche sulla scorta delle precedenti esperienze elettorali e ricordiamo anche i risultati che sono stati ottenuti anche nelle consultazioni politiche e amministrative? Sì, noi stiamo, come dicevi tu bene prima, Sinistra Italiana e i Verdi hanno costruito insieme questa alleanza che non è stata una mera alleanza elettorale per le politiche ma un vero e proprio progetto che appunto ci vedrà con il simbolo e con la costruzione di questa lista anche alle regionali, ci vedrà anche alle amministrative e alle europee sempre con lo stesso simbolo per dare appunto una continuità che secondo me a Sinistra spesso non si è fatta e non si è data e questo per me è importante. alle politiche abbiamo fatto una scelta molto chiara, costruire una lista che tenesse dentro oltre che le competenze di donne e uomini, il fatto che ci fosse un'apertura a società civile, al mondo delle associazioni, che ci fosse appunto il tema del ricambio generazionale che non vuol dire rottamare ma vuol dire al contrario tenere dentro l'esperienza di chi magari fa politica da più tempo con secondo me delle energie nuove che sono proprio anche quelle della mia generazione di chi ha 40 anni oggi e che secondo me spesso la politica che in ultimi anni ha messo completamente da parte. Il profilo sarà questo, cercheremo dal docente universitario all'attivista di tenere dentro più mondi, più realtà perché crediamo che le componenti e i mondi a cui noi vogliamo parlare e su cui lavoriamo da tanto tempo hanno bisogno di una voce. Noi con grande umiltà ma anche secondo me con un po' di coraggio ci stiamo buttando in questa avventura pensando che appunto come ti dicevo prima ci sono tante tante persone che hanno bisogno di avere spazio e noi crediamo di poterglielo dare e soprattutto che possano essere cittadinanza in questa coalizione oltre che nella nostra lista. In particolare trattandosi appunto di una competizione per la guida della regione, quali ritenete sul fronte ambientale le prime difficoltà, le prime criticità che questa regione vive e i primi temi da affrontare se diventaste classe di governo? Prima di tutto c'è da ripartire da quello che non si è fatto negli ultimi anni, il ripascimento dei fiumi, una gestione completamente diversa dei parchi nazionali, andrebbe rimesso a tema il fatto che l'Abruzzo è una vocazione ambientale ma l'ambiente è rimesso al centro come una risorsa per costruire anche economia buona e turismo buono, invece negli ultimi anni si è fatta la guerra ai parchi, la guerra alla natura, esattamente l'opposto, come se nel paradigma del centro-destra la natura fosse elemento ostativo alla crescita economica della regione, invece è esattamente il contrario, meno palazzinari che si provano a mangiare quello che è rimasto della nostra regione e al contrario rimettiamo a comparto tutte le risorse che abbiamo ambientali perché possono essere un volano per far riprendere un'economia che è in grandi difficoltà, non solo in Abruzzo ma in tutta Italia e io credo che la cura del territorio, la messa a valore di quello che abbiamo sia un punto centrale, quindi io credo che non sia un discorso settoriale ma che tenga dentro tutto dal discorso energetico, dal discorso del turismo, della cultura e del lavoro più in generale, io credo che sia un elemento centrale, io credo che con D'Amico questo discorso si possa fare e noi saremo tra quelli che si batterà perché la transizione ecologica sia una delle gambe più importanti della rinascita abruzzese. L'altro grande tema che immagino ispiri anche il vostro programma elettorale è quello del lavoro, oggi l'industria automobilistica vive un po' dei contraccolpi delle situazioni internazionali, l'industria che rappresenta gran parte del PIL di questa regione, però c'è una maggiore precarizzazione delle attività, c'è oggi anche questa ulteriore novità della robotica, dell'intelligenza artificiale che se non gestita può determinare davvero grosse conseguenze sul fronte occupazionale. Che una regione come l'Abruzzo, soprattutto per i giovani che non trovano sbocchi, qual è a vostro avviso la leva su cui la regione dovrebbe intervenire? Dobbiamo convincere gli abruzzesi, i giovani abruzzesi a non scappare più, non andare più via via da qua, sicuramente quello che sta accadendo negli ultimi anni, c'è adesso anche con il governo nazionale, quindi la fuga dalla regione Abruzzo e dall'Italia dell'equalizzazione, quello che citavi tu prima, la robotica, allora il problema, lo dicevo prima, è generale, perché se facciamo una battaglia nazionale per il salario minimo è perché c'è un problema di lavoro a tutti i livelli e noi sicuramente, quando ti dicevo prima, che dobbiamo provare a cambiare e riconvertire anche il modo di lavorare e quando ti facevo il ragionamento sull'ambiente è esattamente questo, dobbiamo inventare nuove forme di lavoro, tra virgolette, che non dobbiamo inventare nulla, già in altri paesi d'Europa, al nord Europa l'abbiamo visto, ci sono altri modelli di sviluppo, ci sono altri modi per costruire lavoro buono, chi c'è oggi qui però si trova sicuramente un governo regionale e nazionale che non fa niente per cercare di tenere quello che c'è, perché anche quello che c'è va tenuto in un altro modo e non certo con i ricatti delle grandi aziende che poi lasciano le bricele al territorio se ne esce, se ne esce, se si favoriscono gli investimenti su questo territorio, quindi non solo si comincia a rimanere, si fa venire altri a lavorare da noi, se però questo ha una regia, la regia deve essere, come dicevo prima, cambiare anche il modo di guardare lo sviluppo in generale, se cambia questo atteggiamento e questo sguardo è possibile secondo me fare grandissime cose, se invece rimane un atteggiamento difensivo, come ti dicevo prima, secondo me non si va lontano, perché quando si parla di riconversione vuol dire che bisogna ragionare in termini da qui ai prossimi 20, 30, 40 anni, quindi un ragazzo oggi che ha delle competenze, che ha sviluppato un'altissima formazione, dobbiamo convincerlo a investire qui, quindi nuove start up, nuovi modi di costruire questo lavoro, se invece non trova niente, evidentemente è costretto spesso a migrare in altri paesi d'Europa o del mondo, quindi neanche rimanere in Italia, è un patto con queste giovani generazioni va costruito e io credo che debba essere, come dicevi tu bene prima, uno dei grandi temi con cui bisogna cominciare a cimentarsi, è una tendenza che è invertita, perché non è oggi che i giovani e le giovani generazioni vanno via, è già un po' di anni, ma adesso sta diventando con la natalità zero ancora più drammatica. Ultima domanda, ultimi 30 secondi per dire che cosa accadrà e soprattutto che cosa voi dovrete fare accadere e perché il 10 di marzo, quindi in questi 5 mesi, cambi lo scenario politico di questa regione? Convincere tutti quegli indecisi, io credo quasi il 50% in questa regione che vale la pena andare a votare, che c'è un'alternativa, che c'è una possibilità, che c'è qualcuno come noi, ma come anche il nostro Presidente D'Amico, spero dopo il 10 sia il nostro Presidente, che voglia prendere per mano quegli ultimi, quegli ultimi che oggi non si sentono considerati, quegli ultimi che oggi fanno fatica a curarsi, a trovare lavoro, a mandare i figli all'università, quindi appunto tutti quei tanti e tanti che credono che la politica oggi non vale più nulla, ecco spero che riusciamo a convincere quei tanti indecisi perché il loro futuro deve essere costruito insieme a loro, quindi non c'è qualcuno a cui dare una delega, c'è qualcuno che gli sta chiedendo costruiamo insieme l'Abruzzo del domani. Grazie, grazie a Daniele Liccheri e la rappresentante della lista Alleanza Verdi Sinistra, naturalmente ci vedremo anche nelle prossime occasioni elettorali, grazie anche ai nostri telespettatori ai quali auguriamo una buona serata. Grazie.